Il Natale a Retino è pronto a tornare e assieme alla città del Natale e ai blocchi di partenza anche il villaggio tirolese in Piazza Grande sotto la regia, come sempre, della ConfCommercio. Il debutto dopo lo stop 2020 dettato dall'emergenza Covid è previsto per il prossimo 20 novembre. Il villaggio tirolese dunque si svolgerà come sempre nel cuore della città, la Ascom cerca 60 ragazzi e ragazze per lavorare proprio ai mercatini di Natale. Le casette quest'anno torneranno in una disposizione rispetto agli anni passati che prevede alcune modifiche, tra queste l'assenza della baita al ristorante sostituita da punti ristoro più piccoli per evitare assembramenti. Sul percorso e le attrazioni che saranno presenti nella zona del Prato Comune Corso Italia invece ancora c'è il massimo riservo. La fondazione Arezzo Inturne prossimi giorni si confronterà con la prefettura e le forze dell'ordine per comprendere come meglio pianificare il ritorno della città del Natale ad Arezzo. Per il momento comunque sembrerebbero confermate le attrazioni del villaggio Lego della casa di Babbo Natale e poi spazio anche ai giochi di luce. Contestualmente al ritorno della città del Natale potrebbe essere di nuovo accessibile a partire dallo stesso periodo anche la Fortezza Medicea in questi ultimi mesi rimasta chiusa al pubblico a causa di opere di manutenzione.